no, c'è caduto, vado a cagare, rega che palle vado a cagare no non ci credo porco dio uccidetelo uccidetelo, basta bravo vado a cagare si si, spelli, spelli calma ma ho fatto i miei occhi belli coprimi da buon di caso vai 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 piano pro qui è? si è? più campo fuori più campo fuori più campo paura dietro a dietro ora mi spero un uccino qualcuno non ci credo so Scusate. La mazzano, mazzano, giulio, mazzano. Giulio, mazzano, giulio, mazzano. Puoi enix. Il drone nemico ha trovato il contenitore di biorischio. Uccidilo! Uccidilo! Amazzalo! No, rimangono 10 secondi. Va bene così. 5 secondi. Così ora mi faccio ucciderlo, almeno spero anche così. il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio no ci sono altro eccomi eccomi che succede giulio ho dovuto fare una strage uno ha fatto quittare poenix invece no io non posso decidere praticamente c'era poenix sennò che l'ho ammazzato e poi c'era sto qua che era suo amico continuava a spararmi e mi faceva prendere i colpi bravo proteggete il contenitore di biorischio pensate al nemico non si fa il come pac cianin de derecia sinistra no no a destra sinistra l'ultimo nemico rimasto c'è anche un altro il nemico si sta impossessando del contenitore intervenite all'istante come back ale registrala ale registrala no 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 ale registrala si